Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo episodio di Grow Home Allora, nell'ultimo episodio eravamo arrivati a collegare una delle otto isole fluttuanti che ci servono per raggiungere il prossimo stadio e avevamo costruito un complicato intreccio di rami per arrivare a quella lassù ma non ce l'avevamo fatta, per cui adesso mi arrampicherò fino a là e continuiamo l'opera BOOM! E attaccati, ok, andiamoci a piedi, sì dai, una piccola arrampicata ci fa bene magari adesso uso questo foglio, mi sa che non si può usare perché sopra c'è il rano eh sì, rischio di andare a sbattere ok, e allora, dobbiamo anche vedere dove ci sono delle... che dobbiamo andare su questo ramo quello di là era morto, ero un ramo munito ok, usiamo la foglia lì adesso ok, dove dobbiamo andare? di là pronti? via! ok, ci siamo risparmiati un po' di strada utilizziamo questo ramo qua o questo qua sotto direi questo qua sotto no, questo qua sotto lo usiamo per quelle là usiamo quello lì di lato ok, c'è mamma che ci dice che stiamo facendo molto bene mamma urca ok ok, su dobbiamo andare sono perso deve essere lì dietro qua c'è là ok via via vila, vila vila vissù 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 ok con questo ce la facciamo eh pronti? via collegato c'è buggato? si c'è buggato un po' adesuale ecco che la pianta cresce siamo più alti della pianta attualmente ok, perfetto quindi prossimo dobbiamo andare a collegare quelle là olè è finito di crescere guardate quante che intreccio che c'è là sotto ehi 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 perchè? perchè fa così? non si attaccava va bene utilizziamo questo per andare a collegare quelli la no ho sbagliato devo saltare sulla foglia ok ok allora dobbiamo andare di là da sul c'è c'è poi un altro teletrasporto vedo la la luce rossa lampeggiando quindi via questa parte mi sembra che ce ne siano due cos'è quella roba verde che ce l'ha in mezzo non ce la faremo con questa ok ci mettiamo in maniera da agevolare e andiamo a prendere quello là sotto e andiamo a prendere quello là sotto ok ci dice che siamo a 2 su 8 dobbiamo andare di là via di sotto questa ce la facciamo? sì e dovremmo per pochissimo non ce l'abbiamo ecco che la pianta cresce Fantastico, andiamo a vedere cosa c'è, c'era quella roba verde che non capivo che cos'era Ah, era la continuazione di quei... del cristallo verde che si è esaurito una volta collegato e andare a vedere che c'è... guardate l'astronave quanto è vicina e ci sono le ghicocche ah, una foglia prendiamola ok sembra che fa il ruttino quando prende le foglie allora dove ci conviene andare non vedo più dove sono le isole, una è la e quella la è distante forse ce n'è una forse quella è la sotto sono le isole non so, mi sa che devo scendere leggermente per capirla andiamo sulla pianta, sul ramo principale e ci siamo, perfetto allora dove dobbiamo andare sempre quella la sopra che vedevamo di là e lì ce n'è un'altra andiamo in quella laggiù però ci dobbiamo arrampicare le giorni inizio e quindi che non c'è quella la sotto non sono le isole utilizzabili aspettiamola via 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 ok questo è quello che posso utilizzare per andare a collegare quello che abbiamo visto comunque qua siamo veramente in alto wow cavoli allora lì sopra via spero in questa puntata di riuscire a collegarle tutte quante in questo non ci arriviamo di sicuro mettiamo un po' di lato bisogna ad agevolare ok ok qua questo fa il caso nostro è spuntato perfetto via 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 non capisco niente 1200 metri siamo quasi al completamento della nostra missione guardatela come cresce perfetto ok bisogna andare sopra quest'isola qua c'era un cristallo qua c'era un cristallo 57 a 60 avremo il prossimo bonus cosa sarà? ok faccio qualcosa? si ah guardate uno di quelle piante carnivore che vi dicevo vediamo se riusciamo a non farci mangiare oppla non oggi cara non oggi allora adesso la prossima da collegare è quella laggiunta e andiamo ok stacchiamoci ok vabbè allora quella lì sotto fa a casa nostra anche quella la è da collegare però quella la colleghiamo dalla sotto questa è da qua quindi vorremmo riuscirci in un in una sola radice si dai che ci riusciamo dai fare scherzi ok ce l'abbiamo fatta vediamo un po' come cresce vediamo un po' come cresce guardate che strano che è quella quel nucleo di energia la sopra deve essere che sarà molto complicato collegarlo bene bene allora diciamo che la prossima è quella la sotto quella la sotto la colleghiamo dalla sotto immagino ehi c'è l'aria che ci spinge no la colleghiamo di là forse è meglio si guarda qua è vicinissimo olè ormai siamo diventati degli atleti sono curioso di sapere cosa succederà una volta che la pianta è cresciuta ok continuo a ripetere che quei versi che fa non mi ispirano proprio per niente ok dobbiamo andare lì via non ci arriveremo con uno mi sa non ci arriveremo con uno decisamente voilà voilà allora è nato una la sotto guardate quello che fa il caso nostro penso che la foglia si è rotta penso che la foglia si è rotta 5 su 8 ok via via tritti alla meta allora dai 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 e track voilà siamo a mille quasi 1500 guardate come cresce perfetto allora il prossimo allora non so più da cosa devo collegare forse devo andare lassù a collegare a questo punto siamo a 6 ancora 2 si dovrai ehi perchè non hai saltato? c'è te salta? andiamo a prendere il teletrasporto andiamo a prendere il teletrasporto la sotto via ok altra fogliolina beh attaccati benissimo ma a sto punto penso che siano gli ultimi due che dobbiamo prendere non lo so non lo so dobbiamo vedere vabbè spostiamoci da quest'altra parte e saliamo si sente già il rumore del pianta carnivora si sente già il rumore del teletrasporto qua è pieno di pianta carnivora questo qua è enorme dobbiamo andare qua sopra ok eh sali dai ok una foglia una foglia e il teletrasporto prendiamo entrambe prendila bravo e tiriamo giù i piedini a questo affare ok prendilo ok e prendi questo ok e prendi questo ok un'altra postazione è attiva ora ok penso proprio che gli ultimi due siano quelli la sopra quello la eh uno che non vediamo da questa parte eh è quello la dietro quindi utilizziamo questa BOOM benissimo capiamoci un po' intorno dobbiamo salire tanto la pianta è ancora alta alta mi piacerebbe prendere anche quegli ultimi due cristalli che ci mancano per arrivare a 60 a 100 a 100 sarà difficile arrivare però a 60 perché a 100 mi sa che devi prendere proprio tutti diventa un bel lavoro andare a cercarli tutti anche perché indietro ne abbiamo lasciati un bel po' e quella lì che cosa è? una super foglia wow guardate che bella dove siamo? qua eccola lì una ok vediamo questo ecco 6 su 8 e via questo dobbiamo prenderlo penso molto precisamente lì in mezzo non è stato neanche così complicato ok ecco che sale a 1600 ah buca questo asteroide adesso esatto wow siamo quasi alla fine quindi penso che ancora uno e abbiamo completato l'opera vediamo che cosa c'è qua so andiamo a vedere che cosa c'è qua so andiamo a vedere che cosa c'è qua so siamo sugli asteroidi ehi guardate quante cristalli che ci sono attaccati a questi asteroidi andiamo a prendere quello ecco abbiamo perso la foglia salta hoppla ok e l'ultimo è laggiù andiamo a collegare l'ultimo e vediamo che cosa succede non ho provato la super foglia guarda la super foglia aia ci siamo super schiantati allora dobbiamo risalire lassù di la ci siamo i fiorellini ci attutiscono la caduta allora quello laggiù c'è uno di qua si eccolo lì oh allora dobbiamo andare lassù via non ci arriviamo di sicura ma con il prossimo ce la potremo fare quindi orriamo leggermente e andiamo lassù non c'è ma con il prossimo ce la potremo fare faccio facciamo un cristallo facciamo un cristallo smetti di cadere giù ok questo è lì dove è un piede e un altro per caso vediamo questo dovremmo fargli fare il giro della morte ok pronti alla collisione tra 3 2 1 1 1 contatto 1800 metri 1900 e ci siamo ecco che si apre ok adesso dobbiamo andare a recuperare i semi oddio e ora sto cadendo non avevo visto che stavo cadendo ok ci siamo quasi salvati dove siamo qua un tanucci lì c'è un teletrasporto andiamolo a prendere come si raggiunge? ah già con le foglie forse? non so se in volo ci arrivo ok di qua via i funghi chi ha i funghi? benissimo aspetta ci sono dei fiori? se li prendiamoli che potrebbero servirci ok allora dov'è che dobbiamo andare noi? quello più in alto? eeeh è per teletrasportarsi ok fantastico ora ci tocca una bella scalata beh però c'è ah no qua c'era darmi tutti qua c'era la foglia prendiamola che può servirci ok salta dentro via ok ok ci siamo e ora scaliamo che c'erebbe provare con la super foglia che c'era prima a vedere se va meglio delle altre se ci tira più in alto e allora è stata forse quella là oh mi ricordo ok che cosa è che c'era? non le ho ok di qua possiamo andare sali 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 vola vola attaccati 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 ok dov'è che dobbiamo andare di là vai altra foglia bene sali 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 sala e questo cos'era? ci sarà un altro teletrasporto qui sopra? ah si, guardate lì che c'è la luce rossa non l'avevo vista però l'utilizziamo se l'avessimo preso prima non avremmo dovuto farci tutta questa scalata qui sopra dove è? qui sopra? qui alè quello qua qui è i suoi piedini ah giù e anche tu giù benissimo ne abbiamo chiamato un'altra ma qualche cristallo per vedere cosa fa il sonos dei 60 sotto c'è uno no! sono riuscito a cadere ora c'è? no 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 non cadere giù robot ma perchè continuo a cadere? dopo tutta la scalata che mi ero fatto maledizione ok va bene maledetto i cristalli ok avanti 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 ok vediamo un po' di andare a prendere col cristallo senza cadere e prendilo che santa ha ancora aumentato il razetto bene bene dov'è che dobbiamo andare? di la l'ho appena detto non dobbiamo più sbagliare sono riusciti di nuovo a cadere dai andiamo a prendere questi semi andiamo a vedere cosa succede ok bravo l'ultima scalata di bud dai forza bud forza che ci sei quasi comunque continua un bel po' inquietarmi il rumore che fa la pianta anche se non sembra sia cattivissima a vederla teniamo il rischio di utilizzare quest'ultima foglia per saltare su ma si dai il rischio è divertente ok la foglia ci siamo attaccati no 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 non cadere non cadere bravissimo salta e su e su bravissimo ultimo salto l'ho aperto ho aperto una foglia ci ha dato un'ammazzata in testa ecco la pianta ecco il fiore anzi e ehi si è rincastrata la testa ok ok e ora chi siamo ok entriamo qui i fiori e che ci devo fare io con questo? devo monterli dentro la nave come faccio? come faccio? ok qua c'è un teletrasporto ok ok inserisci uno starseed nella nella banca dati guarda che bella l'astronave andatemi girare l'astronave una pecorella ci sono tutte delle foto di noi proprio sul pianeta quello la è come composto bud sta sopra tre immagini queste due bottone vedete quante immagini che ci sono di noi sul pianeta che ce le ha scattate mamma forse ok inseriamo questo seme e vediamo che succede inserito sta analizzando ok abbiamo sbloccato un achievement Houston abbiamo la soluzione e ora? un rumore arriverà dalla cabina che devo fare? che devo fare? ok stanno cominciando a costruire la piantagione di starseed che pippurra fuochi d'artificio ok abbiamo finito bravo bud è stato da missione completo è finito e dai non era velocissimo ma lo volevo dire scusate non era lunghissimo però molto carino l'ho trovato veramente carinissimo come gioco adesso ho il titolo di coda ragazzi per Grow Home questa è la fine se la serie vi è piaciuta lasciatemi un mi piace e un commento e scrivetemi se volete quale che volete sarà la prossima la prossima la prossima serie che da fare e in ogni caso per questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao